Andiamo su archiviazione, come vedete disco esterno 61 giga. Salve a tutti ragazzi e bentornati dal vostro Lorettec. Oggi parliamo di MacBook Pro, ma prima di cominciare sigla. In questo video vedremo come installare Mac OS su chiavetta USB. Vedremo un breve tutorial passo passo su come eseguire questa operazione. Molto semplice, ma non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Che cosa ci occorre? Una chiavetta USB, un MacBook Pro. In questo caso utilizzeremo un MacBook Pro Retina 15 pollici del 2012. Prendiamo la nostra chiavetta USB e la andiamo a inserire nel nostro Mac. Adesso non dobbiamo fare altro che accendere il computer e premere i seguenti tasti. Comando, Alt, R. Avviamo. Teniamo premuto. Ok, come avete visto, inizio del recupero tramite Internet. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti. Il computer si collega a Internet e cerca di scaricare l'ultimo sistema operativo compatibile con il vostro Mac. Qua vi chiederà di selezionare il network, quindi il Wi-Fi. Lo selezionate e mettete la vostra password. Una volta messa la password, questa barra dovrà caricare. Compariranno dei secondi, pochi secondi. Questo dipende dalla vostra connessione a Internet. Ok, è spuntato il logo Apple. Adesso attendiamo il caricamento della barra. Siamo entrati nella schermata di utility di Mac OS. Allora, a questo punto dobbiamo intanto formattare la nostra chiavetta. Andiamo su Utility Disco. Clicchiamo su Continua. La nostra chiavetta si chiama Verbatim 64GB. Clicchiamo su Inizializza. Nome. Metteremo Mac. Qui scegliamo il formato. APFS. Ok, e diamo Inizializza. La procedura è abbastanza veloce, ci vogliono pochi secondi. Ok, il disco adesso è formattato, gli abbiamo anche cambiato nome. Qui possiamo chiudere con la X e andiamo sulla voce Reinstalla una nuova copia di Mac OS. Prima di continuare però dobbiamo collegarlo a Internet. Quindi scegliete da qui di nuovo il vostro Wi-Fi e mettete la password. Ok, allora come vedete è connesso. Clicchiamo sulla voce Reinstalla Mac OS. Continua. Mac OS Catalina. Per configurare l'installazione di Mac OS Catalina fai clic su Continua. Ok. Continua. Accetta. Ho letto il contratto. Accetta. Qui abbiamo la nostra chiavetta USB. Mac. 61 GB totali. Disponibili. Clicchiamo su Installa. Ok, tempo rimanente 23 minuti. Lui praticamente scaricherà il sistema operativo e lo andrà automaticamente a installare sulla chiavetta USB. Sta terminato. Si è riavviato. Adesso aspettiamo. La nostra barra sta avanzando. Si è riavviato due volte. Adesso abbiamo un residuo di 16 minuti. Ok, si è riavviato. Piano piano sta avanzando anche la barra. Questo dovrebbe essere l'ultimo step prima di poter configurare il nostro Mac. Siamo arrivati qui alla parte di configurazione del nostro Mac. Qua scegliamo Italia. Continua. Eseguite tutta la configurazione, come ho fatto io. E tutto è funzionante. Adesso ve lo mostro meglio nel dettaglio. Ok, allora andiamo ad accenderlo. Ovviamente vi ricordo che si sta avviando dalla chiavetta USB. Qui mettiamo la nostra password. Il Mac è perfettamente funzionante. Andiamo su Informazioni su questo Mac. Ovviamente non è super riattivo come avere un SSD. Ok, Mac OS Catalina. 15 pollici. Inizio 2013. 7, 2,4. Andiamo su Archiviazione. Come vedete, disco esterno 61 giga. Ottimo lavoro. Bene ragazzi, sono molto contento di aver installato Mac OS Catalina. Questa è soltanto una procedura che vi permette temporaneamente di poter utilizzare il vostro Mac in attesa di acquistare o richiedere la sostituzione del vostro SSD. Spero che questo video vi sia piaciuto. Per non perdere i prossimi aggiornamenti vi ricordo di iscrivervi qui sotto al canale. Supportatemi lasciando un bel like. Da Mac OS e Lorettec era tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!